satiri auto showroom dell'automobile dal 1966 concessionario ufficiale per i marchi fiat fiat professional abart lancia e ford satiri auto e anche vendita auto a chilometri zero aziendali ed usato di tutte le marche e assistenze ricambi per alfa romeo e jippers vieni a trovarci nelle sedi di perugia ponte felcino gualdo tatino gubbio trevi e da oggi anche a città di castello in viale romagna satiri auto cresce la passione per le quattro ruote se vuoi il meglio affidati ai numeri 1 anch'io mi affido ai migliori per la revisione della mia auto mi affido a consaute in ufficio la mia pausa la faccio qui il servizio è perfetto e la qualità impeccabile proprio come me sul lavoro modesta beh io vengo qui perché come sottoscritto è sempre al posto giusto al momento giusto e tu io perché ha aperto 24 ore su 24 come il pronto soccorso e tu io vengo qui per lo straordinario lo straordinario momento di relax in otto ore di lavoro e tu io vengo qui perché tra università e stage beh spendo meno progetto casa fornisce tutto ciò che ti occorre per realizzare e arredare la tua casa materiali edili pitture e decorativi con sistema tinto metrico pavimenti parche e arredo bagno con progettazione tridimensionale di qualità fotografica porte da interno coordinate con portoncini d'ingresso finestre anti effrazione in tvc realizzate su misura inferiate zanzariere verande e serre solari mobili e cucine su misura dei migliori marchi progetto casa la tua casa merita il meglio buonasera ben ritrovate l'appuntamento con link che torna come tutti giovedì per una parte dedicata al dibattito ed un'altra invece dove si incontra uno dei candidati sindaco una serata monotematica su gubbio con una prima parte di dibattito per la quale ora andrò a breve a presentarvi gli ospiti una seconda parte che vedrà invece ospite il candidato sindaco orfeo goracci ma iniziamo dal dibattito con i nostri ospiti che vado a presentarvi come sempre dalla mia destra sarà rinaldini che è della lista di fratelli d'italia per la coalizione presciutti cinti buonasera e ben trovata accanto a me luigi santioni per la coalizione di filippo farneti e la lista civica gubbio in comune buonasera e ben trovato claudio bettelli non è di nessuna coalizione né di nessuna lista civica perché il nostro tecnico questa sera come conf commercio buonasera e ben trovato e accanto a claudio figura che conosciamo benissimo giordano mancini assessore uscente della giunta stirati ricandidato nella coalizione di stirati per la lista scelgo gubbio buonasera e ben trovato allora avrete già vagamente intuito dalla presenza non fosse altro di claudio bettelli di che cosa parleremo questa sera parleremo di commercio per iniziare ma provando anche a delineare un quadro di quale debba essere per gubbio la strada dello sviluppo economico e allora proprio a claudio bettelli che è un tecnico del mondo del commercio chiediamo guardando al commercio nel suo complesso di gubbio quindi non solo il centro ma anche il territorio come sta oggi il commercio a gubbio come stanno i commercianti la risposta ovviamente molto complessa perché ancora sento parlare sentiamo parlare di crisi no io questa parola non la userei assolutamente più perché qui non siamo in presenza di una crisi ma siamo in presenza di una trasformazione del mercato completa che in qualche maniera da una misura appunto di quanto il cambiamento abbia inciso negli ultimi momenti io partirei da due titoli nazionali perché poi gubbio una realtà importante ma inserita in un contesto la varietà del commercio è un bene da salvaguardare quindi il concetto del pluralismo distributivo al quale il commercio tiene in maniera particolare e questo qui che ho sott'occhio è un articolo di federico fubini che è un editorialista molto apprezzato del corriere da sera i conti segreti di amazon perde in europa ma intanto fa chiudere i negozi ecco il commercio si muove in questi meandri molto complicati a livello nazionale dove la presenza della concorrenza e dell'equilibrio tra la piccola la grande distribuzione che è stata per anni oggetto appunto di piani e di individuazioni di problemi è anche in qualche maniera ricente di quello che è stato lo sviluppo della politica dell'online di amazon in particolare e per dare uno spaccato reale concreto e un numero in europa amazon rimette 3 euro 50 ogni 100 euro di fatturato quindi significa che dietro c'è una politica di aggressività che tende a limitare non soltanto il piccolo dettaglio ma anche la media che è grande distribuzione e quindi dobbiamo fare i conti con questi colossi allora la risposta qual è rispetto a questi problemi è che tutti noi la comunità nel suo complesso deve crescere deve in qualche maniera misurarsi con i problemi che sono locali ma anche nazionali quindi non è più sufficiente stare rintanati nella propria attività ma bisogna fare questo passo in avanti questo è il punto di partenza poi entrando invece nella dinamica locale direi che gubbio non è esente dalla realtà che negli studi che sono emersi negli ultimi anni emerge se noi consideriamo che nell'ultimo decennio c'è stata una perdita a livello nazionale del 12 per cento delle attività nei centri storici e dell'undici fuori dei centri storici anche gubbio più o meno è linea insomma con delle perdite progressive non particolarmente significative ma che tutti gli anni ci sono questo è offetto di una diciamo né più nemmeno di come va a livello nazionale non stiamo né meglio né peggio esatto sarebbe interessante anche in vista del piano di programmazione che la regione il regolamento regionale impone anche la nostra città e su questo credo che il comune di gubbio si stia attrezzando dare proprio attraverso questo strumento di programmazione che è in attuazione del regolamento regionale andare ad una statistica più attenta anche a livello locale per cercare di capire quali sono i settori che tengono meglio quali settori che denotano più difficoltà e quindi avere anche una capacità di intervento e su gubbio siamo in grado di dire diciamo che su gubbio poi su questo credo che l'assessore potrebbe riferire in maniera più dettagliata però il comune di gubbio ha affidato a una società questo studio con questo studio saremo in grado di dare delle indicazioni molto più come dire primpanti e precise rispetto a questo aspetto io dico questo e leggo questo grafico per non incorrere in errori c'è tendenzialmente una tenuta nel commercio del settore alimentare dei pubblici esercizi per pubblici esercizi ricordo che si intendono i bar e i ristoranti quindi diciamo il bar e il ristorante regge esatto esatto è in difficoltà invece? c'è una grossa difficoltà soprattutto nei centri storici del settore dei mobili ferramenti in Italia con un meno 22 del livre giocattoli con un meno 20 il vestiario calzature del meno 13 e lì forse è proprio l'online che nel bar e ristorante l'online non lavora perfettamente la giornalista colta quello che era il mio messaggio un po' più cifrato ma questo è un pochettino il quantum nel comune di gubbio ripeto ci sarà questo studio che poi è anche oggetto di un osservatorio di un incontro annuale che noi facciamo per fare il punto sulla situazione e quindi questo ci dirà nel comune di gubbio quali sono le vie dove si perde quali sono le zone dove c'è mancanza di aggregazione e dove c'è la necessità di fare una politica di equilibrio quando ce l'avremo questo esito? questo magari risponderà all'assessore allora l'assessore però lo coinvolgo su questo perché in un recente comunicato proprio dello stesso assessore in attesa degli esiti di questo studio intanto però c'era un dato su cui ragionare perché è vero che l'online dà fastidio un po' a tutti mettiamola così però anche il dove si è e le politiche di frequentazione per esempio di un centro storico sono importanti perché Mancini leggevo in un comunicato che c'è stato in questi ultimi anni un flusso migratorio di attività commerciali parliamo di centro storico dalla zona est di gubbio alla zona ovest perché? beh sì questo comunicato io innanzitutto l'ho fatto uscire per chiarire alcuni dati che erano usciti diciamo imprecisi per una interpretazione non precisa dei dati che erano usciti cioè per mettere bene a punto il fatto che in realtà negli ultimi due anni nel 17 e nel 18 gli ultimi due anni che si sono conclusi la perdita effettivamente di attività di attività commerciale in realtà è avvenuta soltanto per un'unità abbiamo però avuto sia nel 17 che nel 18 circa 17-16 subentri vale a dire attività che sono chiuse che poi si sono riaperte con altre partite IVA con altre proprietà però non gli stessi soggetti non con gli stessi soggetti chiaramente abbiamo notato anche lo studio a cui stava facendo prima riferimento Claudio sarà uno studio molto più approfondito andrà a valorizzare e a verificare anche tutte le classi commerciali tutte le classi del commercio quindi ci potrà dare anche una verifica del singolo dato anche con trend storici il singolo dato della tipologia di commercio però nel frattempo attraverso i nostri incontri periodici ma anche con gli studi che facciamo con gli uffici si siamo accorti che effettivamente in realtà il polo commerciale della città si sta spostando la città è una città viva chiaramente il commercio risponde in modo autonomo ai flussi al modo in cui la città viene vissuta spetta alla parte politica invece individuare e cercare di rendere equamente diciamo appetibile l'intera città per non favorire parti e sfavorirne altri quindi diciamo è più attrattiva da un punto di vista commerciale l'area di San Martino per intenderci Via della Repubblica tutto ciò che sta al di qua di Via della Repubblica forse è quello che sta sopra Corso Garibaldi soffre? Forso Garibaldi effettivamente soffre nonostante i grandi impegni economici e finanziari che questa giunta ha messo in atto in questi cinque anni ricordiamoci che solamente per finire il paccheggio del PUC 1 noi abbiamo speso 1.200.000 euro con la chiusura del lodo che ce l'hanno regalata subito l'8 luglio appena ci siamo insediati più altri 1.500.000 euro per finire i lavori veri e propri noi abbiamo dato a quella parte di città 110 posti auto gratuiti con un ascensore che ti porta direttamente sul corso questo è una forma di agevolazione una forma di incentivazione anche alla mobilità a un diverso tipo di mobilità e di vivere il centro storico però chiaramente la parte storica e attrattiva del quartiere di San Martino è ancora oggi più impattante rispetto agli investimenti che sono stati fatti dobbiamo potenziarli ancora di più c'è un ritardo notevole dei finanziamenti del GAL perché noi sono quasi un anno e mezzo che abbiamo vinto anche un bando per ristrutturare la palestra di San Pietro e farla diventare un pole funzionale all'interno c'era anche l'idea di crearci un mercato del biologico e del chilometro zero in modo tale da ravvivare quella intera parte di città stiamo aspettando che questi fondi arrivino d'altronde il settennato sta quasi per finire se regione e enti superiori non si muovono qui il commercio è inutile dircelo non è che possiamo salvare il commercio con i fondi propri di una città come Gubbio non è possibile poi la riconvolgo su altre iniziative Sara Rinaldini ragioniamo proprio su questo argomento che ha aperto Mancini allora c'è un'area della città che soffre il commercio lì soffre ed è l'area est diciamo così l'area di San Pietro soffre il corso Garibaldi ed è vero che ci sono state tra il 2017 e il 2018 sostanzialmente quasi un pareggio tra attività che hanno aperto e chiuso però anche la longevità di queste attività molte volte non è lunga diciamo così come lo risolviamo se è un problema? va comunque risolto soprattutto una coalizione che si approccia adesso a delle elezioni deve avere un programma ben preciso e stabilito e quello noi ce l'abbiamo anche chiaro proprio perché il nostro candidato sindaco è un imprenditore e quindi questo suo mestiere è un po' un punto di forza nostro cioè sappiamo quali sono le conseguenze delle scelte va bene? allora tutto il centro soffre le chiusure sono sintomatiche perché hanno chiuso delle attività storiche e questo è veramente un segnale d'allarme che non va sottovalutato è chiaro che era scritto a caratteri cubitali chiudiamo perché il centro è stato chiuso perché i barchi non sono stati gestiti bene è vero che la chiusura comunque andava gestita perché comunque è una zona perdonabile se tu pretendi che la città diventa turistica ci deve essere però è anche vero che Gubbio fortunatamente è una città che vive che ha i suoi residenti e quindi quello che noi ci proponiamo è di regolamentare le esigenze del cittadino del Gubbino e del turista perché d'altro canto non è possibile che il turista faccia lo slalom in mezzo alle macchine altro punto quindi regolamentiamo questi barchi perché così come sono hanno veramente penalizzato attività come non so se posso fare nomi però come una ferramenta storica che è dovuta andare a zona Shanghai però diciamo che nell'orario di apertura dei negozi i barchi sono aperti in linea di massima quindi è quello il problema è il barco è comunque il fatto o la psicologia creata dal barco è la non chiarezza perché spesso poi parlando anche con le persone perché comunque viviamo a Gubbio quindi non è che parliamo del nulla c'è il terrore di prendersi una multa perché in entrata e in uscita non è stata chiaro questa comunicazione entri a verde, esce rosso e prendi la multa quindi è chiaro che si preferisce andare fuori e non rischiare soprattutto in questo momento in cui c'è una tensione particolare nello spendere i soldi sempre più rari nelle famiglie quindi immagino che voi andreste a rivedere questa politica prima cosa rivediamo questi barchi e soprattutto cerchiamo di trovare una giusta regola questa giusta regola che cosa riguarda? che riguarda una pedonalizzazione controllata cosa intendo per questo? intanto vorremmo che il turista perché il turista è portatore di economia abbia la possibilità di camminare per dubbio non prendere abbi pazienza però nessun passaggio meccanico che attraversa i sottofondi i sottoboschi della città perché? perché se il turista non cammina non entra dentro i negozi non guarda tutte queste mobilità che esistono insomma distolgono parliamo di questo tunnel di Via della Repubblica proviamo a tradurre per chi ci ascolta ovviamente io insomma non siete d'accordo? no assolutamente però uno dei problemi che viene fuori se la cosa positiva è far camminare il turista c'è anche il turista che non può camminare quindi e dubbio purtroppo fino adesso non è stato adeguato tanto a quella che è la barriera architettonica cioè non sono state tolte quindi bisogna lavorare su questo fronte sì come? attraverso una disponibilità di auto elettriche che il turista può utilizzare su richiesta bene e questa è una ipotesi ce ne sono tante poi ci ritorniamo però volevo coinvolgere in questo colloquio in questo dialogo Luigi Santioni perché Sara Rinaldini ha messo anche altre cose sul piatto che io avrei messo qui là no no ma va benissimo e poi insomma il dibattito serve a questo e allora le affrontiamo adesso perché Mancini ci dice noi abbiamo fatto anche i parcheggi per rendere più fruibile questo centro e ha parlato di San Pietro ci sono progetti per renderlo come dire fruibile a chi ha problemi di disabilità o di poca mobilità come il tunnel che non ci piace chiamarlo così chiamatelo come volete di Via della Repubblica come la pensate su questi due argomenti i parcheggi questo agevola la fruibilità e quindi anche la commerciabilità del centro ma il parcheggio agevola la fruibilità nella prova proprio dal lato diciamo quello che diceva prima a Ovest San Martino perché San Martino è servito da due grandi parcheggi le persone parcheggiano la possibilità di parcheggiare o al seminario e all'anfiteatro poi camminano possono camminare possono vivere la città e quindi passano davanti ai negozi vedono dall'altra parte la parte est è difficile trovare un parcheggio San Pietro c'è ora però non è bellissimo è giurbano poi poi la facciamo intervenire su questo perché la fruibilità sicuramente è importante per esempio Via del Corso ci sono negozi bellissimi da sempre però magari è un problema perché uno deve trovare anche gli spicci per trovare il parcheggio per il parcometro magari dice guarda adesso non c'è spicci poi c'è il varco aperto poi chissà quando mi chiude magari che non è bene informato sulle aperture e le chiusure dei varchi quindi è un problema anche secondo voi questo di accessibilità sì poi io tornerei il mio io ritengo che sia anche un problema di domanda vede un problema di domanda la domanda di acquisto si ha quando c'è un'economia che gira un'economia ricca e oltre certo io ho la possibilità di passare davanti al negozio ma devo avere anche un tasca e soldi da spendere e quindi e questo può compromettere determinate attività su alcune attività è molto difficile perché l'e-commerce sicuramente non lo possiamo noi dal comune di Gubbio abolire quello servirebbero normative addirittura comunitarie o direi io globali per mettere un freno a questo commercio che sta impoverendo molti commerci molti commerci però non possiamo trovare noi la soluzione non possiamo trovare noi la soluzione noi possiamo portare solo cercare di portare più persone rendere fruibile la città e questo già sarebbe un risultato e poi cercare con un'attività oculata sicuramente perché lo sviluppo economico c'è il settore sviluppo economico giustamente nel comune che è quanto mai più prezioso adesso perché vede 15 anni fa Gubbio era un comune a piena occupazione cioè io non conoscevo disoccupati se non magari qualcuno che lo era volontariamente ma adesso invece purtroppo vedo che c'è questo problema i disoccupati ci sono questo sì questo è vero non credo volontariamente via della Repubblica il progetto di cui accennavamo vi piace? no il progetto del tunnel no non ci piace magari però trovare delle soluzioni alternative a questo sarebbe importante non vi piace perché? perché come dice Sara si entra sotto terra invece di vedere Gubbio o perché? potrebbe essere un vantaggio per carità per persone che magari non possono deambulare per gli anziani dovremmo trovare in sistema per consentire se possibile un progetto che consenta anche di vivere la città fuori insomma non se no vanno nel tunnel poi vanno a piazza grande diventa complicato diventa complicato poi coinvolgo Claudio su un'altra cosa ma voglio esatto voglio far replicare i mancini mi piacerebbe poter replicare grazie no no io lo faccio fare ora subito sì perché con Claudio poi voglio aprire intanto vorrei dire abbiamo parlato di accesso alla città i varchi sono aperti dalle 6 della mattina alle 20 e 30 io sfido a dire una persona che voglia usufruire dei negozi della città che trova problemi ad entrare in città dalle 6 alle 20 e 30 il corso il corso non è più a pagamento fino da Padeletti per esempio da lì in poi è stato è stato liberalizzato noi abbiamo ribaltato il concetto di pagamento per fare gli acquisti con un concetto di pagamento per vivere la città abbiamo reso a pagamento il parcheggio di Santo Spirito e liberalizzato 8 posti macchinai in più rispetto a quelli tutti quelli che sono nel parcheggio di Santo Spirito lungo il corso quindi questa cosa qui del dover pagare per andare a fare le spese io non la ritengo non la ritengo corretta poi dopo avremo modo anche di parlare dei progetti futuri proprio per limitare ancora di più questo discorso del pagamento però il progetto del di riqualificazione di via della Repubblica bisogna smettere di chiamarlo il progetto del tunnel perché non è colpa mia l'ho detto io però perché qui rischiamo che la popolazione la cittadinanza lo capisce come un bel traforo che non serve a niente allora il progetto di riqualificazione di via della Repubblica prevede il rifacimento di tutta quanta via della Repubblica il rifacimento del corso fino praticamente all'incrocio con l'attuale pavimentazione nuova prevede tutta la ristrutturazione della zona ipogea che sta nel quartiere di San Giuliano con tutte quelle aree che stanno di risolto prevede tutto il rinnovo del decoro di tutta questa viabilità prevede dopo tutte queste cose anche un tunnel di risalita che va per capirsi tanto siamo tutti dal negozio di acciaio dove sta di lì sullo spigolo fino all'attuale ascensore quindi eviterebbe al turista che ha problemi di ambulazione la salita di San Giuseppe che è la più difficile da fare non è che partiamo dalla statua del fante a venire su queste sono cose che la cittadinanza deve sapere perché se no rischiamo di fare una comunicazione non giusta una replica veloce che anche per voi non trovo questa necessità dico la verità trovo la necessità di investire magari sui mosaici che stanno sotto l'ex ospedale trovo la necessità di investire nella casa della salute trovo la necessità di investire nella riqualificazione di San Pietro insomma ci sono delle ferite aperte che hanno una priorità fondamentale rispetto al camminamento per disabili o per chi perché se così hai detto permette questa viabilità speciale ma insomma invece che spenderci chissà quanti soldi con delle altre situazioni storiche direi che insomma ci sono dei step ci sono delle priorità nella scelta degli interventi e ci facciamo altro beh facciamo ciò che c'è sì lo stesso perché se elimina solamente quel breve tratto seppur insidioso ma brevissimo di salita io penso che insomma dove investirebbe lei prioritariamente investirei prioritariamente sì sul recupero dei beni archeologici che ci abbiamo sepolti praticamente quasi no nella non curanza da tantissimi anni però credo che quei soldi siano vincolati a parte il fatto che i soldi sono vincolati perché sono di un progetto della fondazione che è finalizzato a una viabilità alternativa lenta quindi non possono essere utilizzati per fare ognuno quello che ci pare ma poi ringrazio loro perché allora direi candidativi con noi perché noi siamo la lista che ha riaperto gli scavi della Guastoglia prima erano chiusi da dieci anni l'abbiamo riaperti noi abbiamo fatto noi venire giù l'università cioè stiamo noi facendo una nuova sede universitaria a San Benedetto dove ci verrà una scuola di specializzazione di archeologia e come ci vengono a dire tirate fuori i loro dicono quella non è una priorità ma quello noi l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto e l'abbiamo ricoperti nell'attesa di fare altro e di tirarli fuori di più siamo noi che abbiamo fatto la scuola di specializzazione universitaria per la storia dell'arte cultura sì e questo è vero ma ci mancherebbe che non l'aveste fatto in cinque anni erano ci sono dei reperti nascosti poi adesso non voglio soffermarmi su questo perché veramente Gubbio ha tante cose però effettivamente ci sono dei reperti romani sparsi dietro il negozio di San Nipo insomma ci abbiamo tanto qui come scavi scappa fuori qualcosa quindi sarebbe una storia senza fine aggiungiamo un altro elemento Claudio quant'è la longevità di un'attività commerciale in centro cioè al di là dei negozi storici le nuove aperture poi alla fine che prospettive hanno? questa è una domanda molto interessante perché in realtà poi è molto breve e c'è un turnover spaventoso parliamo di otto decimi dei tentativi che non sortiscono effetti duraturi e questo crea da una parte una distorsione del mercato ma dall'altra anche crea dei problemi ovviamente a chi apre magari incautamente chi sono queste persone che aprono una nuova attività? siete riusciti a farvi un'idea? sostanzialmente siccome sono piccoli interventi sono persone che normalmente perdono il posto di lavoro o comunque magari hanno da investire la liquidazione il TFR dei genitori quindi sono tutti interventi come dire sporadici difficilmente avviene un'apertura per motivi innovativi perché poi il concetto è anche questo dicevamo prima c'è una problematica generale per tutte le attività extra e centro storico nel centro storico ce ne sono ulteriori perché ci sono dei svantaggi competitivi giustamente l'assessore diceva Corso Garibaldi è aperto fino alle 8.30 di sera e quindi eventualmente ci dovrebbe essere un'accessibilità però c'è un retaggio culturale una diffidenza da parte di chi entra c'è una diffidenza del cittadino di usare il parcheggio di San Pietro perché non è sempre pulito perché non è sempre disponibile quindi ecco da questo punto di vista come dire l'elemento psicologico c'è una necessità evidente che chiunque che chiunque amministrerà si ritroverà di fronte di cercare di provare a fare una città più accogliente più disponibile questa secondo me è la vera sfida della propria amministrazione e quindi curare l'ordinario e quindi riportare nel centro storico i servizi perché poi questa è la vera sfida e quindi anche un'altra proposta che secondo me diventa fondamentale è quella di far funzionare questo regolamento dell'ornato al pubblico per il quale è stato lavorato e che presto partirà quindi la creazione di deorre di strutture carine e di accoglienza dei pubblici esercizi di creare un arredo urbano comunque dignitoso prevedendo magari degli incentivi a consorsi di vie che faranno un'unica bacheca una presentazione di una città accogliente allora qui scatta anche questa domanda quanto l'economia turistica è importante per il commercio cioè se dovessimo mettere una fetta di percentuale sugli introiti delle attività commerciali quanto incidono i turisti quanto poi invece il commercio è degli eugubini Tucur guardi per il centro storico sicuramente siamo almeno a un terzo mediamente un terzo viene dal mondo del turismo del turismo ovviamente il turismo è una parola un pochettino complicata perché riguarda settori trasversali no perché io immagino turismo anche la ripavimentazione di una via nel centro storico ma anche una sistemazione di una strada che porta ad un agriturismo per turismo si intende tutta una serie di iniziative che credo siano fondamentali per questa città e per esempio mi riferisco a tutta la senteristica a piedi e a cavallo che diventerà immagino nei prossimi anni ma anche nei prossimi mesi una sfida veramente da raccogliere perché in tutta Italia si sta rilanciando il settiero Europa quindi c'è la possibilità di creare anelli tra il sentiero Francescano e le attività e quindi un mare di ipotesi che si può aprire quindi il turismo territoriale il turismo all'aria aperta ma anche il turismo culturale io so che le cose che sto dicendo comportano degli investimenti economici ma se il terziario se il commercio in quanto terziario diventa un elemento basilare di sviluppo dell'economia bisognerà fare anche uno sforzo per esempio nell'ambito dei musei io so quello che dico costa quindi c'è una scelta politica a fondo ma aprire i musei con un orario continuato il museo del palazzo dei consoli creare un circuito virtuoso e mi ricordo che per esempio facciamo un'esperienza che in prospettiva questa non a breve termine ma a lungo termine e questo riguarda anche tra l'altro il recupero della zona est della città utilizzare l'ex mattatoio per il museo del lupo che per questa città ha un significato immenso che mai siamo riusciti a valorizzare fino in fondo il lupo come valore nel rapporto uomo-animale come valore di riconciliazione come valore ambientale e quindi creare quel lavoro che il maggio aveva iniziato esatto un museo iconografico e anche virtuale mi ha solleticato una domanda ma gliela faccio dopo ci dice Bettelli che almeno un terzo di quello che è il fatturato delle attività commerciali deriva dal mondo del turismo allora voi come amministrazione comunale uscente avete approntato diciamo avete deciso avete alcuni interventi proprio per rendere più turistici chiamoli più belli chiamiamoli così questi esercizi commerciali di che cosa si tratta? Sì stiamo concludendo proprio in questi giorni un lungo confronto che c'è stato anche un aiuto reciproco anche con le associazioni di categoria perché abbiamo stiamo concludendo un accordo per il quale in seguito anche al nostro nuovo regolamento sull'ornato abbiamo stanziato 50.000 euro per tutti gli esercizi commerciali che hanno dei Deor per l'adeguamento al nuovo regolamento spieghiamo ai cittadini il Deor il Deor sarebbe l'occupazione del suolo pubblico per fini diciamo alimentari noi classici tavolini coperti l'esterno l'esterno del negozio poi stiamo predisponendo all'interno sempre dello stesso accordo un progetto turistico per rendere la città una vera e propria città turistica vale a dire tutti ad adesione volontaria ma comunque tutti i negozi che decideranno e gli esercizi commerciali che decideranno di adeguarsi e di entrare in questo progetto turistico diventeranno filiali dell'Ufficio Turistico del Comune di Gubbio quindi all'interno del proprio esercizio commerciale potranno trovare delle brochure potranno avere delle informazioni avranno l'obbligo di mettere a disposizione i servizi igienici per i turisti anche per la mamma che deve cambiare il bambino in cambio il Comune concede gratuitamente l'occupazione del suolo pubblico per 20 metri quadri per tutto il periodo estivo e per 10 metri quadri per tutto il periodo invernale per il periodo sottonatale per dare un'idea la massima occupazione di suolo pubblico nel nostro Comune è di 48 metri quadri quindi vuol dire che stiamo concedendo quasi il 50% dell'occupazione del suolo pubblico diciamo come rappresentante di una parte di commercianti che poi sarà esteso a tutti per costituire quello che diceva prima anche l'avvocato mi scusi Santioni però stiamo provvedendo per cui chi farà spese dentro un esercizio commerciale dentro il Comune di Comune riceverà un ticket che potrà la volta successiva esporre invece di pagare la prima ora di parcheggio quindi la prima ora gratuita sarà la prima ora gratuita in modo che potremo finalmente parlare di centro commerciale naturale perché i vari esercizi commerciali si scambieranno clienti fra di loro si daranno dei crediti scambieranno dei crediti fra di loro e l'accessibilità alla parte commerciale della città sarà veramente veramente libera Bene Sara Rinaldini le piacciono questi progetti e se non li piacciono come li cambierebbe o come li integrerebbe? Piano turistico il piano turistico secondo me va rivisto va rivisto sì il ticket che poi era già stato fatto diversi anni fa ma non è che abbia prodotto chissà quale voglia di andare a fare spesa in centro secondo me il turismo ha necessità di elasticità gli orari dei musei gli orari degli ascensori tutti i servizi devono essere a disposizione del turista lo so è una faticata però questo è insomma tutte le città turistiche hanno questi servizi chiamiamoli così non solo Gubbio 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 Teatro Romano Palazzo dei Consoli benissimo io un bicchiere d'acqua adoro io amo Gubbio quindi non c'è nessun problema però noi abbiamo un giacimento che è quello del territorio abbiamo tanti castelli dove sono sono stati restaurati allora una cosa un punto a favore che io do è alle associazioni private Maggio Gubbino anche perché no Gubbio fa centro gli alberaioli che hanno lavorato veramente con tanto sacrificio e tante idee per poter dare una smossa a questo nostro territorio con il Maggio Gubbino sono stata due domeniche fa a Carbonesca al castello di Caresto Gio amici siamo tornati ma che che territorio ci abbiamo ma perché non viene messo in rete perché non creiamo ci abbiamo tanti agriturismi che sono tanti ganci per poter dormire in mezzo alla campagna quindi secondo me siamo rimaniamo troppo chiusi fermi ci dobbiamo allargare il turismo non è solo il centro ma il territorio ma sì perché come diceva Bettelli il turista non è più il turista che va a vedere la pinacoteca è il turista che va in mountain bike è il turista che fa non lo so la vacanza enogastronomica è il turismo esperenziale c'è un turista che ha tante necessità l'americano ma le e-commerce ma non ne può più delle e-commerce vuole venire odorare sentire bisogna offrire non per una tipologia ma per tante tipologie allora tu attiri e soprattutto elevare un pochino il livello di questo turista appunto le tasche devono essere comunque ben predisposte a spendere e questo lavori solamente se tu offri e quindi devi offrire offrire lo iatta aperto fino a mezza adesso ti conto va delle iperboli però per carità musei comunque aperti però la provoco sì certo ma io aspetto l'appunto alto l'appunzecchio ok penso che su questo tavolo siamo tutti d'accordo del come dire dare maggiori servizi ma costano non siamo in tempi felicissimi come finanziamo tutto questo ma abbiamo una grandissima risorsa che è la tassa di soggiorno la tassa di soggiorno può essere reinvestita in questo settore poi dopo magari glielo chiediamo dove la reinvestite la tassa di soggiorno ci sarebbe da discutere perché noi siamo stati super attaccati per averla messa poi adesso tutti quanti ci vanno a mettere poi la facciamo replicare sulla tassa di soggiorno sono curioso di sentire anche Bettelli sulla tassa di soggiorno cioè certamente i servizi per esempio è indubitabile che in una città anche l'evento no? cioè creare eventi mi viene in mente il festival del medioevo diventa fondamentale per attirare e avere turisti ma tutti questi eventi hanno costi importanti a naso quanto mettiamo per il festival del medioevo? 70 mila euro non noi ma l'organizzazione di tutto l'evento è più è più circa 140 io dico come comune 70 allora cioè quindi come finanziamo insomma qual è il ciclo virtuoso chiamiamolo così per riuscire a a dare una spinta al motore turistico e con esso all'economia commerciale ma io guardi mi rifaccio al concetto che diceva prima Bettelli no? sono le città da visitare le città da vivere se diventasse più una bella città da visitare e da vivere con i turisti che si fermano di più perché possono avere possono fare attività possono vivere appunto la città no? come succede su alcune bellissime cittadine della Toscana no? che dove i turisti americani si fermano lì e vanno nelle cantine vanno nei ristoranti spendono soldi acquistano ceramiche acquistano noi questo noi abbiamo più ancora un turismo di passaggio che visitano la città gli piace tantissimo la città ne vengono tantissimi pochi però si fermano pochi si fermano per vivere la città noi dovremmo dovremmo fare questo cercare anche di stimolare perché questo può fare il comune può stimolare gli imprenditori a fare rete a fare rete anche gli imprenditori che lavorano nel settore enogastronomico per esempio sono nate situazioni come sicuramente infatti stavo dicendo che con i vini sono nate delle iniziative sono nate ma così potremmo fare con il miele con adesso dico così anche con la cresciano con i prodotti riconoscibili però l'elemento finanziamento è sempre importante cioè trovare i soldi da dove li troviamo per fare questo è fondante come problema questo è fondante però se si creano delle sinergie anche da un punto di vista enogastronomico oppure fare dei tour per il cicloturismo questo non penso che costi tanto si tratta solo di organizzarli perché non è che dobbiamo costruire la strada dove vanno quelle mountain bike quindi io non ho parlato assolutamente non ho parlato di spesa conosco i bilanci che so come sono però l'iniziativa vede lo stimolo la crisi deve creare lo stimolo tutte le crisi stimolano la fantasia questo dobbiamo cercare di realizzare prima quando Bettelli diceva del lupo di Gubbio io in tutti i posti insomma una volta c'avevo più tempo c'avevo fortuna di girare mi dicevano del lupo di Gubbio ma dice ma dov'è sto lupo di Gubbio ma il lupo di Gubbio è la leggenda di San Francesco però i turisti vengono a Gubbio e sto lupo lo vedono ok cioè non vedono quello che poi allora con un evento con una storia importante come quella di San Francesco che ammanzisce il lupo con tracce storiche comunque documentate e ampliate dalla religione insomma nell'ambito religioso altre città avrebbero fatto una fortuna con questo fatto solo con questo lasciamo questo io le dico questo dobbiamo si deve cercare l'idea assolutamente la faccio subito replicare però voglio voglio solo da Claudio un contributo perché è venuta fuori la tassa di soggiorno all'inizio non era piaciuta moltissimo ai commercianti continua non piacere esattamente così però diciamo che noi dall'inizio come confecommercio avremmo sostenuto e di fatto questo è diventato una tassa di scopo perché questo era poi il vero senso della tassa di soggiorno avere un introito da chi per notta nelle nostre strutture e poi creare una tassa di scopo che era riversata ai settori questo è avvenuto poi in realtà perché nel frattempo è stata istituita anche la consulta del turismo quindi alla fine l'avete digerita? e alla fine l'abbiamo digerita proprio perché rientrava in queste che erano le prerogative appunto del turismo però riferita al turismo io il mio sogno e il mio obiettivo principale è quello di rendere compiuto quella che era stata un'intuizione pensate un po' parliamo dei primi anni 90 della compianta Letizia Cassata che parlava allora già da adesso della definizione di una città turistica quando il visitatore si sentirà un concittadino ecco quello sarà l'obiettivo secondo me che ancora non è stato raggiunto perché presuppone a livello culturale un livello di approccio che ci consente di fare un passo in avanti ma se mi permetto di dare un altro flash riferito anche all'intervento che faceva l'avvocato Santioni noi stiamo cominciando a creare dei prodotti intorno al turismo era una cosa che ci mancava questo è successo a Natale l'anno scorso lo ricorda tutti in una piccola esperienza perché l'albero di Natale che prima c'era da 25 anni operava il piano di comunicazione è stato rafforzato quindi la comunicazione unita a un prodotto ha portato a quei risultati il prodotto era anche con Christmas Land la creazione di questi pacchetti che si vendevano attraverso Ticket One che davano l'idea di una città che finalmente è in grado di fare la promozione e di creare il prodotto conseguente poi le chiedo una cosa la tassa di soggiorno come la impieghiamo? la tassa di soggiorno sono circa 210 230 che lei è anche assessora al bilancio quindi le chiediamo sono circa 210 230 mila euro le rispendiamo 70 mila euro per il festival del medioevo per l'attività del festival del medioevo poi ne spendiamo circa un altro 20-25 per l'attività invece riguardanti il Natale poi ne spendiamo altre tanti circa per tutte quante le attività estive di tutta quanta l'attività della promozione estiva della città ce ne stanno poi circa 15 mila euro per promuovere prodotti turistici che abbiano come al centro non lo stare a gubbio un prodotto specifico della città ci sono bandi specifici per questo poi ci sono altri circa 30 mila euro di sponsorizzazioni di pubblicità di campagna e tutta la parte restante per eventi turistici e sportivi tutti i campionati del mondo che abbiamo organizzato è interamente investita sul turismo la consulta del turismo ha ogni anno la fattura di quello che noi abbiamo spesso con la tassa di soggiorno non c'è una lira che va per pagare altro Sara Rinaldini la conservereste la tassa di soggiorno e la usereste diversamente insomma che opinioni vi siete fatti di questa tassa che inizialmente era tanto indigesta io mi ricordo ma è applicata in tutti i comuni perché diventa una risorsa importante i comuni come sappiamo non hanno più quelle risorse statali che avevano prima quindi governare anche con pochi soldi non è facile e tutto va bene il contributo dei cittadini per dire l'illuminazione di via della Repubblica è stata fatta con un contributo dei negozianti siamo d'accordo non siamo d'accordo questo insomma lo diremo successivamente però è necessario che ci sia un contributo del turista per mantenere una città per dare appunto i servizi ecco io probabilmente la declinerei in questo nel dare più servizi al turista cioè vorrei che un turista che viene qui non ha è ben servito è coccolato come diceva si sente a casa dice Mettelli si sente a casa ma anche con una città pulita con una città sicura con dei prodotti buoni alimentari che tra l'altro è un punto nostro di forza quello dei prodotti alimentari e anche insieme a quelli alimentari quelli artigianali quindi lì abbiamo un grandissimo progetto un grandissimo progetto però io veramente ce l'accenna velocemente questo progetto prima che passa un altro argomento è un progetto di filiera agroalimentare che prevede visto che tema commercio assolutamente e dove noi insomma puntiamo parecchio perché riteniamo che il turismo sarà un 40% di introito e per il resto noi abbiamo una campagna che è molto estesa abbiamo un comune di 36.000 abitanti 32.000 abitanti e non c'è una densità così forte demografica quindi il resto è tutta campagna fortunatamente e grazie al settore anche che poi Marzio Cinti segue e quindi il suo mestiere abbiamo questa idea di fare dei consorsi che riuniscono per settore le diverse produzioni di fare un brand di Gubbio riconoscibile e riconducibile a Gubbio e soprattutto questo brand ti permette di presentarti non in un mercato locale nazionale ma internazionale e qui il comune avrà una grandissima importanza perché dovrà accompagnare e seguire questo processo quindi questo processo di marketing commercializzazione e questo prevede intanto una nuova apertura verso un nuovo settore antichissimo ma nuovo l'agricoltura veramente prevede dalla produzione alla trasformazione del prodotto quindi hai tantissimi mercati all'interno di questo processo una filiera che appunto prevede diverse competenze e lì ci sono veramente giovani che possono fare noi qui a Gubbio tra l'altro abbiamo una sezione della scuola della Cassata che è proprio l'agrario ed effettivamente c'è una tecnologia incredibile applicata all'agricoltura che si può applicare assolutamente sì un attimo però volevo solo coinvolgere Santioni poi perché Sara Rinaldini ci ha portato anche fuori dal centro parla della campagna del territorio perché poi noi dobbiamo guardare anche a questo abbiamo parlato del centro storico e va benissimo il commercio però c'è anche tutto un mondo che sta fuori che si sta muovendo voglio aprire con lei questo spazio il rapporto centro-periferia a breve avremo la riapertura di un cantiere di un centro commerciale importante siamo nella zona di Fontecese ecco qual è oggi il rapporto centro-periferia è la periferia che fagocita il centro come beh se si va avanti così saranno i centri commerciali che fagocitano fagocitano tutto perché ce ne sono ce ne sono abbastanza insomma se adesso lei mi dice che stanno iniziando i lavori per l'altro ce lo ha comunicato l'amministrazione comunale che è anche notevole come dimensioni se io ricordo e poi le faccio replicare il tutto no se io ricordo il progetto quindi certo i centri commerciali sono molti almeno in base insomma le dimensioni della nostra città non potendo bloccarli perché sono attività ovviamente di libera iniziativa di libera iniziativa certo come facciamo a costruire un rapporto virtuoso secondo me stranissimo cioè desertificano un po' tutto sia le frazioni la vita nelle frazioni che nel centro storico perché le persone per comodità vuoi perché hanno il parcheggio coperto vuoi perché possono parcheggiare davanti la porta perché hanno fretta perché magari pensano di risparmiare tempo e vivono vanno nel centro commerciale si fermano magari al caffè del centro commerciale e diventa una vita un po' che io avevo visto tanti anni fa in altri paesi quando andavo negli Stati Uniti non avrei mai pensato insomma che si potesse riprodurre è un problema come dire che ci portiamo da una urbanizzazione da un piano regolatore che li ha individuati o è qualcosa ormai inevitabile guardi sicuramente un piano un regolatore che li ha individuati e li ha autorizzati c'è stato poi i tempi sono cambiati e soprattutto in economia abbiamo visto che l'economia attualmente non è più quella di dieci anni fa è molto cambiata dieci anni fa non avevamo nemmeno l'e-commerce così sviluppato non avevamo e sicuramente adesso incide incide più molto più adesso l'apertura di un nuovo centro commerciale dico in generale sulla vita e sugli altri commerci che non dieci anni fa certo questo sì alla luce di questo forse però bisognerebbe anche ripensare le tipologie di attività che stanno in centro rispetto a quelle della periferia perché presumibilmente proprio una diversificazione se vogliamo anche di tipologie può aiutare ma assolutamente sì allora al centro dovrebbero rimanere quelle attività appunto artigianali artistiche tutte quelle attività pensavamo noi fare anche le botteghe aperte sia alle scuole che ai turisti come si vede in molti centri che tu turista puoi entrare puoi vedere come fanno il vaso ti spiegano come fanno il vaso come fanno il bucchero come fanno la ceramica e gubbio di queste ne ha insomma e queste ne ha tantissime di specialità ne ha tantissime poi chiediamo a Bettelli dei centri commerciali ma forse Mancini voleva puntuali solo alcune piccole cose l'agroalimentare di qualità e l'artistico il prodotto artistico e artigianale di qualità già c'è la valorizzazione di questi percorsi noi l'abbiamo già già approvata il consiglio comunale l'ha approvata all'unanimità il consiglio comunale ha approvato il marchio d'eco che è proprio questo è l'istituzione della qualifica di altissimo pregio di un prodotto agroalimentare e artistico qui però c'era stata la finalità del marchio d'eco è proprio questo è proprio quello di sponsorizzare finalizzare risorse spazio e denari dell'ente per far conoscere le caratteristiche peculiari di un prodotto sia agroalimentare che artistico senza dover fare il nome dell'artista o del produttore perché chiaramente noi siamo un ente pubblico non è che possiamo fare marketing per l'impresa la pubblicità per i singoli però ricordo che proprio sul marchio d'eco c'era stato perché credo ci sia un po' una differenza di quello che raccontava Rinaldini sul marchio d'eco poi mi dica se sbaglio sul marchio d'eco c'era stata c'era stato un mal di pancia chiamiamolo così per esempio degli artigiani che dicono non vogliamo stare ma non perché gli fanno antipatici insomma con il settore dell'agroalimentare perché sono due canali di commercio diversi e poi invece sono finiti nello stesso marchio voi credo pensate ad una cosa solo agroalimentare solo agroalimentare il marchio d'eco è un'istituzione regionale non è che la possiamo legiferare noi quindi non è che in una città può fare due marchi d'eco però noi abbiamo all'interno del marchio d'eco fatto due registri uno solo per l'agroalimentare uno solo per l'artistico però la commercializzazione del marchio è unica la commercializzazione del marchio è unica ma del prodotto legato al marchio è specifica per quel prodotto noi per esempio adesso stiamo facendo il disciplinare della crescia disciplinare della crescia non verrà sicuramente veicolato insieme con il bucchero verrà veicolato con la crescia avete risolto con due registri con due registri separati tra l'altro in accordo con le rappresentanze anche del commercio perché c'era anche Art Ingenio all'interno del gruppo di lavoro e loro stessi furono d'accordo quando utilizzammo questo voleva chiarire una cosa voglio chiarire questo che il nostro progetto diciamo che riguarda una consorziazione cioè dei consorsi che seguono i produttori che si associano insieme fanno un percorso di lancio nel mercato ma internazionale quindi fiere e l'amministrazione dovrebbe deve cioè vorremmo che l'amministrazione affianca quindi non il singolo produttore non il singolo produttore ma sono delle cose e perché perché te lo spiego subito giusto mettere insieme diversi produttori hanno un potenziale diverso dal punto di vista della proposta massacritica no massacritica ma anche della contrattualità capito quindi tu proponi un prodotto ad un costo oppure tu riesci a contrattare un costo perché sei potenti ai numeri è proprio quello che fa il marchio d'eco perché il marchio d'eco dà il prodotto di qualità all'oggetto poi sotto c'ha tutti quanti produttori autorizzati quindi la rete è proprio lo scopo del marchio d'eco il mancini dice la rete già c'è il marchio d'eco serve proprio per fare la rete per mettere insieme produttori che di qualità e di altissimo pregio e farli lavorare insieme per promuovere il prodotto non il loro marchio e quindi far conoscere tutta la città è proprio questo io sono contento di essere d'accordo con lei perché vuol dire che il percorso che abbiamo iniziato nel caso io ve lo auguro non me lo auguro anzi non te lo auguro però sono contento che almeno lo proseguirete perché è molto importante questo abbiamo veramente Marzio Cinti che è nel settore cioè lui fa questo di messiere quindi saprà una battuta di Luigi e poi apro con Bettelli un altro sì ma questo era anche faceva parte del nostro programma era proprio questo nel settore agroalimentare di rendere il prodotto riconoscibile cioè uno deve avere il turista deve unire Gubbio oltre al paesaggio a tutte le bellezze artistiche anche a qualcosa che può consumare come può essere il vino adesso sono delle esperienze che sono iniziate ma avere un vino che è di Gubbio e quindi fare rete anche il miele cioè un prodotto che dice questo è un prodotto di Gubbio la crescia stessa adesso hanno iniziato c'è il mulino di Branca che ha fatto un'iniziativa che raccoglie solo farine locali e per questo fatto per questa sua prerogativa è stata anche intervistata su un programma televisivo quindi su questo siamo d'accordo su questo siamo d'accordo e questo ci sembra valido è un punto in più è un punto in più Claudio rapporto centro-periferia il centro commerciale è un problema? è un fagocitatore del centro? come lo risolviamo? ma sicuramente nel corso degli anni è stato in qualche maniera spostato l'interesse primario commerciale prevedendo prevedendo l'urbanistica questi insegnamenti ricordo a tutti che al di là del volere o del piacere rispetto a programmazioni di tipo urbanistica sia l'ente che le associazioni hanno la capacità soltanto di dire un sì condizionato mentre prima esistevano non è poi dire non lo fate il centro commerciale oggi esistono i sì condizionati se vogliamo semplificare il concetto e la condizione qual è? è che il progetto sia compatibile con uno sviluppo sostenibile quindi questi progetti devono avere la caratteristica di qualità di garantire poco rumore molto ambiente e poco inquinamento questi sono i sì condizionati che diciamo quindi di fronte ad un centro commerciale che viene costruito poche cose può dire però io dico che anche questo dei centri commerciali tutto sommato dovremmo vederlo in un'ottica più variegata e faccio un esempio la strada che noi abbiamo aperto la Perugia-Ancuna ha aperto un fronte credo maggiore dell'incidenza di un centro commerciale che è stato aperto a Gubbio se noi pensiamo bene io dico queste cose perché le raccolgo dai nostri associati che mi dicono caro Claudio io ho perso dei clienti questo qui ha un'enoteca per capirci quindi non è che parliamo neanche ci sono dei ragazzi giovani che in 25 minuti sono a Perugia e quindi riescono quindi diciamo che ci sono strutture fisiche e questo è anche il segreto del progresso del commercio del centro storico del piccolo dettagliante il futuro è nella specializzazione sicuramente sì ma nella capacità di avere uno spazio fisico e uno spazio digitale quindi ecco è questa la vera sfida dell'innovazione tecnologica che noi attraverso la formazione professionale attraverso i vari bandi che la Camera di Commercio e il Ministero stiamo cercando di fare e i commercianti occupiti rispondono? cominciano a rispondere perché comunque capiscono che al di là del fatto della critica della lamentela poi esiste una parolina magica che in economia è risolutiva che è fiducia se il commerciante se l'imprenditore non ha fiducia non c'è economia quindi ecco noi siamo corsi delle difficoltà però rispetto alle difficoltà non ci arrendiamo e vogliamo crescere ecco Claudio questa è la sfida che la Confe Commercio cerca di lanciare ai propri associati che non è più quella certo no storica della difesa addoltranza della categoria ma è quella di una crescita che attraverso il supporto tecnico e anche sindacale dell'organizzazione i commercianti che hanno fiducia possono rimanere quanti dei vostri associati commerciano anche online cioè hanno uno spazio fisico ma poi promuovono i loro prodotti online e magari li vendono diciamo che ancora è una fascia molto ridotta devo dire la verità però comincia ad essere perciocchito questo tipo di investimento però questo non riguarda soltanto il commercio riguarda anche la città io credo che il lavoro che questa amministrazione comunale ha lanciato deve fare forse si parla poco ma quello della banda larga sia un'altra strategia sulla quale bisogna ragionare perché è vero che ci sono le strade fisiche dalle quali noi siamo isolati ma in una città bella come Gubbio dove i tempi di trasferimento sono brevi anche la rivoluzione tecnologica delle strade è una risorsa che con la banda larga e quindi quanto possiamo sfondare nei servizi non lo so forse poco però creare anche lì un meccanismo di sviluppo credo che possa essere utile Allora un minuto a testa sia per se volete le repliche ma anche insomma in questo settore il commercio il sviluppo del commercio il primo impegno che vi prendete da amministrazione comunale se lo sarete Ovviamente un rilancio un rilancio forte dell'economia così tanto massacrato da quello che è un po' l'andamento naturale della crisi che ormai insomma stiamo uscendo appunto quindi non si parla più di crisi ma si tratta di riprendere in mano le fila e trovare i settori giusti per poter mandare adesso dei messaggi a tutti già chi ha delle aziende chi si approccia chi vuole cambiare attività quindi bisogna trovare il modo giusto soprattutto bisogna progettare noi abbiamo sicuramente una persona giusta perché io credo che un imprenditore sappia bene dove va a parare dove va a parare e soprattutto conosce un settore che in questo momento è veramente importante e forte che è quello agroalimentare importantissimo il turismo bisogna rivedere diverse cose anche sul turismo no ai centri commerciali assolutamente perché tanto quelli che costruiscono non li può bloccare non si può fare nulla però è anche vero che si può fare una una progettazione su questo no? ci vediamo quando sarete amministrazione Luigi Santioni una battuta dico Sara faceva presente che il loro candidato è un imprenditore il nostro è un valente commercialista e vede bene tutti i giorni le aziende che vanno bene e quelle che vanno male quindi sa bene perché vanno male i conti in tasca gli augubini li fa fa benissimo i conti in tasca alle imprese quindi ecco quindi c'ha un'esperienza sicuramente da vendere anche lui sotto questo profilo e poi per quanto riguarda sai le iniziative sicuramente per esempio abbiamo la la zona industriale la nostra zona industriale di Padule che ancora non ha la fibra veloce e questo è importante perché per le aziende che lavorano e adesso anche di certe dimensioni ecco sono le uniche aziende rilevanti che abbiamo in quella fascia e non avere la fibra veloce tra poco ci sarà l'avvento del 5G quindi il 5G comporterà delle problematiche tutto diverso perché saranno le micro antenne quindi bisognerà fare un regolamento apposito per queste micro antenne per la diffusione del 5G quindi dovrebbe partire insomma a mesi quindi diciamo nella vostra agenda questo è il primo punto questo è il primo punto poi questo io parlo per temi generali chiaramente poi un'esperienza che per esempio è stata abbandonata quella joint l'incubatore di imprese che era stata creata da questa giunta e adesso da un paio d'anni non risulta più attivo l'incubatore di imprese che doveva tenere praticamente per mano tutte quelle imprese quelle start up o comunque imprese che avevano necessità di una consulenza per la qualità del prodotto per le sinergie per i costi per era stata creata ma attualmente non risulta più attiva almeno da un paio d'anni ho verificato anche il sito non ci sono più iniziative la riprendereste? noi la rilancieremmo la rilancieremmo perché sai molti giovani che non hanno lavoro è bene stargli vicino è bene una vera e propria consulenza un accompagnamento chiamiamolo così esattamente una consulenza d'accompagnamento perché il mercato è duro è sempre più duro e quindi è assolutamente utile assolutamente importanti poi non parlo di altre iniziative che tanto sono di dettaglio e poi entre ci dice anche che Fina ha fatto Joint Gubbio e poi ovviamente il suo minuto anche per lei allora intanto Joint era un'associazione privata che aveva un rapporto di consulenza per il comune il fatto che l'associazione privata si sia fermata per motivi loro interni che non sto qui a spiegare non vuol dire che il comune non sia continuato a muoversi all'interno della digitalizzazione all'interno delle start-up all'interno dell'attivazione di nuove tecnologie per l'ausilio allo sviluppo economico noi abbiamo aperto il Digipass in Via Gioia è il polo per l'abbattimento delle barriere digitali più grande dell'Umbria che ha la finalità specifica proprio esclusivamente per lo sviluppo economico dentro c'è la sede dell'organismo per il controllo della crisi il cosiddetto OCC fatto con una con una convenzione con l'ordine dei commercialisti di Perugia ci stanno dentro le sedi di due acceleratori di impresa uno per la microenergia fatto con l'università di Perugia e un altro nuovo che stiamo facendo adesso una nuova convenzione dopo che Joint ha sospeso le attività dentro c'è l'informa per aiutare i giovani per aiutare i nuovi i nuovi ragazzi i nuovi imprenditori che si mettono si mettono sul mercato è un attività un polo altamente specializzato c'è un luogo per il co-working dove ci stanno 20 postazioni però è anche un progetto regionale se non sbaglio però più ampio sì ma la regione ha finanziato un digipass il fatto che quel digipass sia per lo sviluppo economico una scelta dell'amministrazione altre parti l'hanno fatto esclusivamente per i servizi sociali per lei dice noi l'abbiamo ampliato nei contenuti esplicitamente per lo sviluppo lo sviluppo economico lì internamente avremo sicuramente tutte le risposte potremo dare le risposte anche per il mercato tecnologico io sto in questi giorni e ho parlato nei giorni passati con le banche perché insieme con il digipass vogliamo attivare percorsi di finanziamento per le nuove imprese per i giovani perché le banche soprattutto le banche quelle del territorio più vicine al territorio hanno progetti per favolire l'impresa però devono avere garanzie queste garanzie le può dare il comune perché sul nostro territorio esistono tantissimi spazi industriali inutilizzati sul quale il comune rinuncia completamente alle proprie tariffe IMU all'addizionale comunale IRPEF l'abbiamo azzerata quindi per i quasi azzerata per i dipendenti quindi vogliamo dire il comune rinuncia rinuncia il comune questo è un progetto sul quale io tengo la banca finanzia l'idea del privato il comune garantisce l'idea del privato rinunciando a tutte le tassazioni sulla proprietà allora lo rifarebbe l'assessore se vince e se glielo chiede il sindaco se me lo chiede il sindaco sì perfetto in genere anche chi risponde no è stata una beca enorme evidentemente è stata una beca enorme però sì bene grazie ovviamente per essere state con noi grazie a Sara Rinaldini grazie a Luigi Santioni grazie a Giordano Mancini grazie a Claudio Bettelli grazie a tutti per un supporto davvero tecnico e professionale che per noi è stato fondamentale ma non finisce qui perché subito dopo la pubblicità abbiamo incontrato incontriamo il candidato sindaco per due liste civiche Orfeo Goracci che ci racconta come vede Gubbio e ovviamente chiederemo a lui i suoi progetti per questa città pubblicità e a tra poco con Goracci e anche vendita auto a chilometri zero aziendali ed usato di tutte le marche e assistenza e ricambi per Alfa Romeo e Jeepers vieni a trovarci nelle sedi di Perugia Ponte Felcino Gualdo Tadino Gubbio Trevi e da oggi anche a Città di Castello in Viale Romagna Satiri Auto cresce la passione per le quattro ruote secondo me a Città di Castello Se vuoi il meglio, affidati ai numeri 1 Anch'io mi affido ai migliori Per la revisione della mia auto mi affido a Consauto Grazie a tutti Il servizio è perfetto e la qualità è impeccabile Proprio come a me sul lavoro Modesta? Beh, io vengo qui perché come il sottoscritto è sempre al posto giusto, al momento giusto E tu? Io perché hai aperto 24 ore su 24 Come al pronto soccorso E tu? Io vengo qui per lo straordinario Lo straordinario momento di relax, di notte ore di lavoro E tu? Io vengo qui perché tra università e stage Beh, spendo meno E tu? Progetto Casa Fornisce tutto ciò che ti occorre per realizzare e arredare la tua casa Materiali edili Pitture e decorativi con sistema tintometrico Pavimenti, parquet e arredo bagno Con progettazione tridimensionale Di qualità fotografica Porte da interno coordinate Con portoncini d'ingresso Finestre anti-effrazione in PVC Realizzate su misura Inferiate Zanzariere Verande e serre solari Mobili e cucine su misura dei migliori marchi Progetto Casa La tua casa Merita il meglio Seconda parte di Link Come di consueto Dedicata all'incontro A tu per tu Con un candidato sindaco E questa sera abbiamo con noi Orfeo Goracci Buonasera e ben trovato Buonasera a lei Allora, partiamo subito Orfeo Lei si è presentato questa settimana Esattamente martedì sera E ha detto Insomma, la scelta di scendere in campo Come candidato sindaco È stata sofferta Ha parlato di Follia umana o follia politica Ce li spiega queste due follie? Ci provo E lo farò Leggendo un messaggio Che una persona Per me Molto cara Una persona alla quale Rivolgo Tantissima stima Insieme Alle mie donne di casa Che sono state un pilastro Per me Anche nei momenti più difficili Che tra un attimo Le andrò a leggere Ma intanto volevo Nel ribadire il saluto A lei Alle gentili A gentili Telespettatori Ringraziarla per l'invito Visto che È dal 2010 Che io Non entro Qui nei vostri studi Spero che questo Possa essere L'inizio Di un Rapporto Sereno Tranquillo Perché Credo Avendo L'ambizione Di Rappresentare La città Di poter valorizzare Al meglio Anche le Potenzialità positive Che In un organo Di informazione Ci possono Essere La mia scelta È stata È vero Molto sofferta Incerta Per molti aspetti E quando Ho scritto Alla persona Che richiamavo Prima Se Come giudicava E se giudicava Questa scelta Tra la follia Tra la follia umana E se oltre questa Poteva essere Sicuramente un po' Di follia umana In questo c'è Se poteva esserci anche Un po' di follia politica La risposta che mi ha dato È questa La tua follia è sacra La tua follia è sacra Sono contento Il sacerdozio politico Non è un dono personale Ma collettivo Dunque va dato alla comunità Il risultato è già grandioso oggi Volevano distruggerti E invece Puntini puntini Beh Dal mio punto di vista C'è L'impegno Sapendo Il sacrificio Che mi Ci attende Ma anche La certezza Che questa comunità Nonostante tutto Non ci ha Lasciato E lei richiamava L'incontro che abbiamo avuto Martedì scorso Beh Anche quello È stato un segnale Importante Un buon inizio Un grande inizio Anche se non sono io Avvezzo a facili entusiasmi Perché vengo da una storia politica Lunga e lontana Ahimè Ho più di 40 anni Sulle spalle di militanza E ricordo Che In temi Nillo tempore A volte capitava di dover dire Piazze piene Urne vuote Urne vuote Non vorrei che fosse questo il caso Non sarà Autorevolezza Competenza Coraggio Concretezza Lei ha detto che questo è Stringato Il suo programma Chiamiamolo così Di governo Comunque sia Le caratteristiche Che garantisce A questa città Ritiene che non ci siano Attualmente Allora io In questi 45 giorni Vorrei evitare Il più possibile Di Parlare male Dei competitori Dei miei interlocutori Credo Che sia più giusto Tentar di dire Far percepire ai cittadini Chi siamo E quello che vogliamo E non a caso Quelle Quattro parole Che lei ha richiamato Dal mio punto di vista Sintetizzano al meglio L'idea che ho io Dell'agire E anche un po' La mia storia In questo senso Perché autorevole E concreto Anche gli avversari Più accaniti Me lo hanno riconosciuto I cinque anni Distirati E proverò a fermarmi Su questo Come aspetto critico Sono stati Una profonda delusione Cinque anni fa Il professore Veniva vissuto Come l'uomo Della provvidenza Quello che serviva Per gubbio E non a caso Ha fatto un risultato Straordinario In questa sede Fece Dei confronti Televisivi Dove Faceva impallidire Me Che sono considerato Un estremista Con affermazioni Di un certo tipo Nette Decise Barricadere Appena Arrivato A Palazzo Pretorio Questa verve Si è completamente Ammosciata E Dalle C Di Concretezza Competenza Coraggio Probabilmente Si è passati All'attenzione Verso altre C Che in città Contano molto E i risultati Per gubbio Purtroppo E questo è l'elemento Più delicato E importante Sono di una Negatività Sconcertante I dati E voi Ogni tanto Li riportate I dati Che ci sono Economici Di condizioni Demografiche Di situazioni Nelle frazioni Sono di Un livello Che nessuno Si aspettava E non è un caso Che sia figure Rappresentanti In consiglio Sia figure Che hanno sostenuto Con forza Stirati Cinque anni fa Lo hanno Tutte Abbandonato Perché Si è dimostrato Inadeguato Bravo Per tanti aspetti Ma per essere Sindaci Ci vuole grinta Ci vuole coraggio Ci vuole autorevolezza E le cose Bisogna farle Non venire qui A proclamarle Ecco allora Partiamo proprio Dalle cose Che vuole fare lei Partiamo proprio Dal lavoro Perché lei Lo ha posto Come uno Dei punti Diciamo così Da cui ripartire Questa è una realtà Lo dicono i dati Che è tra le più povere Dell'Umbria Forse se togliamo La Valnerina Ma capiamo anche La condizione Che vive L'area della Valnerina A seguito del terremoto È l'area Più povera Dell'Umbria Lo dicono per esempio I dati del PIL Pro Capite Tanto per dirla È un'area Con una decrescita demografica E anche questo Forse è un trend A onor del vero Nazionale Ed Umbro Ma in questo territorio È ovvio Che si sente di più Lei dice Bisogna ripartire dal lavoro Ma che cosa può fare Poi oggettivamente Un primo cittadino Per creare Opportunità di lavoro Allora Il quadro che lei ha fatto È quello che abbiamo Sotto gli occhi Le posso dire Che nelle situazioni Di difficoltà Generali Ci sono altri sindaci E senza Girarci intorno Penso per esempio A quello della sua città Che è più presente Più dinamico Nelle vertenze Che ci sono Con aziende in difficoltà Nello spingere Poi io posso Non condividere Le scelte Lei dice però L'atteggiamento Nello spingere Verso determinate soluzioni Presente al MEF Qui sembra che il problema Non ci sia Che cosa può fare Un sindaco È chiaro La crisi economica Non la supera Un'amministrazione comunale Però Qualche cosa Di pratico E di concreto Sicuramente Può essere fatto Intanto Una tassazione comunale Più bassa Generale Perché siamo Ad una di quelle Più alte Dei livelli Di città Capoluogo Di provincia E di regione Per esempio Un'idea che ho E che ho lanciato È quella di Avere attenzione Verso chi ci prova Senza usare i termini Inglesi di start up Di chi prova Ad aprire un negozietto O prova Ad aprire Un'attività artigianale Per esempio Per i primi Due o tre anni Azzerare Le tassazioni comunali O comunque Dimezzarle Non cambia la vita Per quei soggetti In maniera totale Assoluta Ma sicuramente Un segnale Una piccola mano La può dare Come un'altra cosa È quella Di attivare Una convenzione Con gli istituti Di credito Almeno locale Per mettere Una cifra Certi comuni Non disporranno Il comune di Gubbio Non disporrà Di un milione di euro Amministrato Non mi piace raccontare Detta le gubina Piccia favole Però 50-100 mila euro Ci si potrebbero mettere Per che cosa? Per garantire Chi non riesce A pagare Una rata di mutuo Perché quel mese È successo qualcosa Di non positivo E Le forme di strozzinaggio Autorizzato Delle banche Da Basilea Venire in avanti Purtroppo Fanno sì Che chi ha Messo la casa Come copertura O quel negozio Su cui ha intrapreso L'attività Gliela rimangiano legalmente Bene Questo è una cosa Che non possiamo fare Ma la cosa più importante È quella che a parole Diciamo sempre tutti Nei fatti Poi poco si fa Perché quando sento Parlare di incenerimento Vorrei capire Che cosa c'entra Questo Con l'idea Dello sviluppo Di una città E di un territorio Il centro storico È stupendo Lo conosce il mondo Ma noi abbiamo anche Un territorio Una campagna Un'agricoltura Che possono essere Un riferimento positivo Per una filiera Che è quella Dell'ambiente Turismo Cultura E la cultura Non è solo Dentro le mura urbiche Che pure È l'aspetto più importante Ma pensate Pensino Le concittadine I concittadini I castelli Che ci sono a Gubbio Quante località Amene Belle E già Gli agriturismi L'avevano vista lunga 15 anni fa Se siamo Il comune dell'Umbria Che è il maggior numero Di queste attività Lei dice Mettiamo in rete Dobbiamo Sì Dobbiamo rafforzare Soprattutto Questi aspetti Perché Alcune Attività Noi Uno sviluppo industriale Non ce l'abbiamo avuto Negli anni 60-70 Quando queste opportunità C'erano Però mettere a disposizione Per esempio Per qualche attività Noi abbiamo L'Umbertidese Che ci chiede Sempre mano d'opera Soprattutto nei settori Della metalmeccanica E abbiamo l'area Di Mocaiana C'è anche Verso Camporeggiano Qualcosa Può darsi Che ci possano essere Soggetti interessati Ad investire Sulla nostra realtà Almeno nei settori Che tirano Però di nostro Quello dell'ambiente Cultura E turismo È la risposta forte Perché arrivare A 801 milioni di presenze Nella nostra realtà Di visitatori Scusi Non è una cosa Da fine del mondo Siamo già A circa la metà Qualcosa meno Ci si può arrivare Questo significherebbe Minimo Il raddoppio Di una potenziale Attività In questo campo Attività Sana Pulita Non inquinante Ecco Arrivo qui L'ambiente Perché è l'altro tema Fondante Della sua campagna Elettorale Lei ha detto No Secco All'incenerimento Di Gubbio Esattamente Lei ha detto Non voglio che Gubbio Sia l'immondezzaio Ha utilizzato questa parola Dell'Umbria No anche Alle biomasse Ci sembra di aver capito Una sua chiara posizione Diciamo che questo però È un argomento un po' comune Anche a tutti gli altri candidati sindaci Un punto in comune Non mi sembra che sia Un punto comune A tutti gli altri sindaci Per una ragione Molto semplice Chi è sindaco adesso Disse che Era contro La vetrificazione Delle logge Lo disse in campagna elettorale Lo disse al convegno Dicendo che la pensava Esattamente come L'architetto Teodolo Manganelli Appena arrivato In comune C'è il parere Della sovrintendenza Il comune lo fa Poi si sono fatti i pareri In 24 ore Quando un cittadino Se deve fare un intervento Nel centro storico La sovrintendenza Ci impiega 6, 8, 15 mesi Perché si cambia facilmente Parere Quindi ritiene Che si possono cambiare Molto spesso attenti Io non mi fido La dico Perché poi Quando trovo l'antenna padule Ce la si prende Con il dirigente Che non me l'ha comunicato E caspita Il dirigente Allora fai azione Nei confronti Di chi non ti comunica Non è che metti Il puntellino Sulla siepe Dell'orto guidone Cioè metti Un gingilletto Di molti metri In una comunità Di 4.000 persone O come è avvenuto Per le biomasse Dove Ma sì Le regole I sindaci Devono avere coraggio Stare dalla parte Dei cittadini Della loro comunità Però conviene Lei viene Lei viene da una città Dove Il compianto Rolando Pinacoli Parlava A tutti A nome della comunità Si potevano anche fare Forzature Ma non erano Per l'interesse Soggettivo Ma perché Quella comunità Le esigeva E rispetto All'incenerimento E quando dico Le biomasse So bene Che poi c'è L'energia alternativa So bene Che non dobbiamo Essere chiusi Io sono stato a vedere In tempi non sospetti L'inceneritore di Brescia Del quale si parlava Da tempo A Gubbio In Umbria Altrove Ma dico A Gubbio Se io voglio Il tipo di sviluppo Che ho elencato prima Questa cosa Ci si rende conto Che è l'esatto contrario Cioè È come Invitare Dracula Al laboratorio analisi Non Non può funzionare Lei sa che però Per esempio Per le biomasse Questo è un dato di fatto Ci sono autorizzazioni Che passano sopra Ad un comune Cioè Si può aprire un impianto Anche senza Dover avere un'autorizzazione Dal sindaco Dottoressa Come ci organizziamo Dottoressa Non concordo con lei Perché Se ci sono Forme che Agevolano O in qualche modo Avvantaggiano Dico questo verbo Tra virgolette Chi fa l'imprenditore La volontà popolare Viene prima Lei è stata testimone Da giornalista Della vicenda Di Fossato di Vico I cittadini Non la volevano Ce l'avevano Le autorizzazioni C'erano scenari nazionali Se una comunità Una cosa Non la vuole Non la si fa Non la si fa Perché Il sindaco rappresenta La legge E la comunità insieme Allora Se io decido Di non fare una cosa Perché in primo luogo C'è il principio Della cautela Vede Questo è un dato Questa è una direttiva europea A fronte della matematica Certezza Che non succeda niente Parlo di incrementi Di malattie Parlo di rischi Per Una tipologia di aziende E io devo stare Dalla parte Della ragione Come si dice Quindi il principio Di cautela È fondamentale Dopodiché Allora Ci sono I puristi Dell'ambiente Che dicono Che non si dovrebbe Bruciare niente Perché qualsiasi tipo Di combustione È un elemento A suo modo Che inquina E che non è una cosa Tipica Della Della natura Io Ai miei alunni Ho insegnato Che la scoperta Del fuoco È stata una Delle rivoluzioni Più grandi Per l'umanità Anche se molti milioni Qualche milione Di anni fa Beh Credo che a Gubbio Vanno bene Le braciole La bruschetta Ma non certamente L'incenerimento Nei cementifici O gli impianti Di biomasse Che sentendo I tecnici Non io Che non sono Particolarmente esperto Anche se non sono Il profano Del settore Che quando vai a vedere Dopo Un anno Hai bruciato Tutto quello Che i boschi Che hai messo Sul piano Di quel tipo Di investimento Sono già finiti Allora Lei teme che ci si possa Bruciare qualcos'altro È il rischio che c'è Non parlo evidentemente Delle situazioni Dei singoli Delle situazioni presenti Perché poi i controlli Sono i soggetti Ma in qualche modo Anche il comune di Gubbio È arrivato a dire Dobbiamo vedere Di più e meglio Cioè lei dice Fidarsi è bene E questo Quando si fa Una operazione Soprattutto nel mondo Del lavoro e di investimento Ci deve essere Un'armonia Con la comunità Perché se uno decide Di fare una cosa Per dispetto È evidente Che funziona male E non si arriva Da nessuna parte Centro Storico Lei ha detto È mancato buonsenso Sulla vicenda telecamere Le toglierebbe Quando E se Diventerà sindaco Lei pone una domanda Rispetto alla quale Io non voglio entrare In contraddizione Anche con Mie dichiarazioni Passate Quando ho assunto Altri ruoli Le telecamere Possono essere utili Le avevo pensate Anch'io Ormai A ricordo Visto che spesso C'è Chi richiama Il passato I danni Che sarebbero Stati fatti Il sottoscritto Sono esattamente Oltre nove anni Che non è più Sindaco di Gubbio Nove anni Non sono proprio Ce li sentiamo addosso La politica Con le accelerazioni Che ha avuto E che ha Nei tempi Che viviamo Nove anni Non dico che siano Un'era geologica Ma è tanto tempo Ne sono passati Di figure C'era Fini Che era un leader Tra i più importanti A livello nazionale C'era Berlusconi C'era Bertinotti Guardi Berlusconi c'è ancora Però non è quello Non è più quello E ritorno Alle telecamere Mettere 13 telecamere Con la multa in uscita È una forzatura Perché se io Voglio andare Nel centro storico Che non c'è rimasto niente La politica folle Della cementificazione Dei supermercati In una città Che è di 32 mila abitanti Anzi siamo diminuiti Di 1300 abitanti Rispetto ai tempi Che richiamavo Poc'anzi Se io voglio andare A fare A prendere un caffè A fare un acquisto A trovare Uno studio Di professionisti E ce ne sono sempre Più pochi Dentro il centro storico Non posso rischiare Che se incontro Tre minuti di fila In più Rispetto a quelli previsti Mi becco decine Decine di euro Queste telecamere Hanno Fatto Comodo Soltanto a far cassa E non si fa così Nei confronti dei cittadini Rimodulerebbe gli orari Dunque Quanto meno Quella filosofia Diciamo Della città Allora Non solo Io Continuo a credere Che su due o tre punti Della città Sono assolutamente necessarie Però sul resto Vedrei per esempio Di meglio La presenza di vigili Che possano Gestire il traffico Per quelle che sono Le loro competenze Perché Le telecamere Noi siamo sempre Un po' provinciali Arriviamo tardi In molte città Stanno tornando indietro Quelle che le avevano fatte Cinque sei anni fa Perché sono più i problemi Se fatte così In maniera rigida E in realtà Fatte soltanto per far cassa Non solo scontentano Ma diventano Paurosamente negative Cioè io ho conosciuto gente Che ha paura Di andare dentro Il centro storico Quindi scoraggiano Quindi scoraggiano La frequentazione Anche del centro Sicuramente Allora Le dico tre cose PUC di San Pietro Gubbio Cultura Di scarica di Colognola Non più tardi di ieri Il movimento Scusi di martedì Il movimento Cinque Stelle Le ha attribuito Una Come dire Una paternità Per quelli Che poi ha definito Dei buboni economici Per i bilanci comunali E anche A onor del vero Il sindaco Stirati Più volte Per esempio Su Cologno L'ha detto Dovremo pagare 4 milioni di euro Per il rambientamento Ed ereditiamo Come dire Una gestione Di questa discarica Che non è Nostra Cioè ereditiamo Un problema Come abbiamo ereditato Un problema Nella Gubbio Cultura E molti servizi Come abbiamo ereditato Un problema Nel PUC di San Pietro Sono su eredità Lei le ritiene? No Adesso Vede Io non volevo Non volevo parlare di altri Però se mi ci tira Per i capelli I pochi che sono rimasti Non posso che farlo Bisognerebbe conoscerle le cose Prima di spararle Perché poi è facile Il PUC di San Pietro È una delle operazioni Di urbanistica cittadina Più lungimiranti Cioè dare 300 posti auto A ridosso del centro storico Pensi che era idea Dei tempi di Barboni Era in locus cubio Il sottoscritto Non è più sindaco Da quando Quella struttura In cemento armato Che fa schifo Anche a me Ma se lei Vede la villa Di Beverly La più bella E la lascia incompiuta È chiaro che L'impatto Sarà assolutamente negativo Quindi lei dice L'idea era buona Non è stato finito No non sono io Che ha dato I milioni e duecentomila euro Quanto è ai soggetti Si doveva completare Se io diventerò sindaco Una delle prime cose Che si farà Sarà quella Perché quella cosa brutta In quel modo Io non la voglio Come vorrei valorizzare La palestra che c'è sopra Perché nonostante Sono un antifascista convinto Quella palestra Sopra c'è rimasta Perché è una testimonianza Una delle cinque testimonianze Del ventennio Siamo nella storia E va rispettata Mi cita Colognola E cita Stirati Io credo che Non voglio usare parole forti Però dico Affidiamoci al buonsenso Nei nove e dieci anni Dell'amministrazione Goracci Eravamo comune riciclone Contavamo in Umbria Eravamo nell'ati Una figura importante E avevamo le tariffe Più basse dell'Umbria Le tariffe più basse dell'Umbria Arrivati questi Che poi dicono Che hanno lasciato Che hanno messo questi Per il post mortem Della discarica 300 mila euro In cinque anni Hanno messo 50 mila euro all'anno Lo sa quant'hanno incassato Ogni anno Per i depositi In discarica 800 euro Che fine hanno fatto Gli altri 500 mila euro Ma lei l'accusa Che viene fatta Di non aver messo da parte Ma questi che hanno fatto Questi hanno Si aveva messo da parte 800 mila per 5 Quanto fa 5 per 8? 40 Aveva chiuso la partita In realtà è che ci sono Venditori di fumo E ai quali In determinati luoghi Viene dato sempre Comunque spazio Il problema della discarica Se lo deve prendere Lauri La regione Ma se tu sindaco Ci mandi l'assessore Una delle prime volte Che esce Ma si rende conto Che il comune di Gubbio Non è rappresentato Nell'organismo Che gestisce Rifiuti Fognature Acqua Il comune più grande Dell'Umbria Il comune che ha Due cementerie Il comune che ha Una discarica Il comune che dà L'acqua ad altri comuni Dell'Umbria Ma di che stiamo parlando? Lei ha citato anche La Gubbio Cultura Multiservizi E mi perdoni L'ho sentita fare Un'intervista Ad un mio Competitore Farnetti Dicendo che Stirati Ci ha provato Ha risolto il buco E no dottoressa O l'hanno informata male La Gubbio Cultura Multiservizi Fino al 2014 I conti Ce li aveva in ordine Non c'era Un centesimo Di sbilancio Non solo Glielo dice Goracci Fino al 2011 Perché La perdita Che c'era ogni anno Di 110 130 mila euro Veniva Coperta dal comune Ma c'è un soggetto Che è Il commissario Un commissario Sa che cosa guarda In un comune? I conti E se c'è qualcosa Di sbagliato È su quelli Che interviene La commissaria C'è stata Fino a maggio Del 2014 Anzi I primi di giugno Del 2014 Non ha mai detto niente Sa quando è stato fatto Il buco? Tra il 2014 15 e il 2016 Lo sa che ci sono state Le dimissioni Di un assessore Che quel settore Lo seguiva E non si è capito mai perché? Stirati aveva detto Che avrebbe denunciato In procura Perché non l'ha fatto? La denuncia non c'è Ce ne sarebbero Di argomenti tantissimi Una per esempio Lavori pubblici Che lei insomma Ha fortemente criticato Mi faccio un flash Su questo I tempi lunghi Di esecuzione Dei lavori pubblici Davvero un flash I cittadini Vedono che cosa significa Via Perugina Leggevo una battuta Proprio poc'anzi Su Facebook Bisognerà prendere L'elicottero Per andare Dalla parte esta Alla parte ovest Della città Quando si mettono A bilancio dei soldi Per fare un intervento In una zona strategica Come quella Della zona semaforica Tu devi metterci 50-100 mila euro in più Anche perché Si possano fare Turni di lavoro In più Perché significa Abbassare i tempi Per la realizzazione E quindi stringere Allora Veniamo al suo processo Io ritengo che Il suo processo I processi si fanno In aula di tribunale Quindi noi non lo facciamo Non l'abbiamo mai fatto qua Però diciamo Come stanno attualmente le cose Mi dica se sbaglio Il suo Quello che la riguarda È in fase dibattimentale Di primo grado Attualmente Sono ancora sentite Le parti civili La prossima udienza Il 15 aprile Va ricordato Che in sede Di giudizio preliminare Sentenza Semeraro Cadbero Per assoluzione E anche perché Insostenibili 22 capi di imputazione Che la riguardavano Quindi insomma Decisa Anche forse Uno dei più infamanti La violenza sessuale È stato ritenuto Insostenibile Restano tra le altre Resta l'associazione A delinquere Il tentativo di concussione E di questo Lei sicuramente Con i suoi avvocati Dibatterà In aula di tribunale Quello su cui Io vorrei attirare La sua attenzione E se possibile La sua risposta È questo In base alla legge Severino Che disciplina La decadenza E anche la sospensione Per le condanne Eventuali Dei sindaci Laddove Lei diventasse Sindaco E in questi Cinque anni Si arrivasse Ad una sentenza Di primo grado Che può essere Positiva Completa assoluzione Ma anche no Potrebbe Lei trovarsi davanti Ad una sospensione Dico potrebbe Perché la legge Severino In realtà È una legge Che apre Ad interpretazioni Perché poi Bisogna vedere Come la condanna Qual è il capo Diputazione E cose varie Diciamo così Se ci trovassimo In questa condizione Di una sentenza Non positiva Per lei Che qual è lo scenario Per Gubbio Beh intanto Perché dovrebbe esserci Questo scenario Perché lei Ha descritto In maniera Corretta Una parte Però Non ha detto Come è nato Questa vicenda Come è nato Questo processo E questa vicenda Giudiziaria Chi le sta parlando È stato privato Della libertà Con 36 capi Di imputazione Confronto a me Totò Riina E Bernardo Provenzano Erano degli eccellenti Chirichetti Bravissimi Sempre in ginocchio Tutto il giorno Per me E i miei compagni Di sventura C'è stata Una gogna Mediatica Che a Gubbio Continua ancora Non da parte sua E devo dire Su questo caso Nemmeno da parte Di quest'emittente Ma gli agubini Sanno e ben capiscono Sarà casuale Questo lo metto Come punto di domanda Chi Condusse Giudiziariamente Quella operazione Il magistrato È stato trasferito Dal tribunale Di Perugia È sotto procedimento Perché Trasferito cautelarmente Cioè significa Che non poteva stare In un determinato luogo Perché Ci voleva cautela Poteva non far bene Con Capi Di imputazione Siamo Io sono garantista Lo sono per me Lo devo essere Evidentemente Anche per gli altri Siamo in una fase Che le cose vanno Appurate Anche se va ricordato Ai concittadini Che la procura Di Firenze Ha chiesto Altri sei mesi Di proroga Delle indagini Perché sicuramente Stanno scavando Bene So dove sto parlando So che quello che dico So che quello che dico È attenzionato Tanto per usare Un linguaggio Che appartiene Alla giustizia E alle indagini Bene Le beghe Che ha Chi ha condotto L'indagine Su di me Riguardano in gran parte Una nota famiglia Eugubina Mi perdoni Io non faccio i processi a lei Non li farei nemmeno Alla Duttini Io non li faccio Io non li faccio a nessuno Però lei tenga conto A Roma Mafia capitale Siamo già al secondo livello Di giudizio E tra breve Ci sarà la Cassazione Con condanne pesanti A Buzzi A Carminati E in primo grado Anche all'ex sindaco Aleman Lì c'era la ciccia Lì c'erano i soldi Qui hanno Privato della libertà Nove incensurati Guardi allora Se vuole che le vada Se le vada subito Alla risposta Si chieda perché Ed è la prima volta in Italia Che c'è un atteggiamento Nei confronti Di un soggetto politico Un sindaco E metà di una giunta Si chieda perché Metà è processata E metà no Se le delibere Si prendono tutte insieme Come ha dimostrato La Corte dei Conti Dalla quale siamo stati assolti Evidentemente Questa cosa Di giudiziario Aveva Molto poco Ma era di altri campi Lei ha detto una cosa Poi va interpretata Intanto La sospensione scatta Sopra i due anni di pena Esatto Infatti io questo ho precisato Va sopra i due anni di pena In secondo luogo Per esempio In Campania Per Sia De Magistris Sia De Luca Ci sono state letture Che sono state diverse Ma io mi sento Ancora più tranquillo Perché È la mia Nostra coscienza Che sa Che non abbiamo fatto Si sente sereno Possono aver sbagliato Una volta Ma è sostanzialmente Poco credibile Che possano sbagliare Una seconda Perché l'unica colpa Che noi abbiamo Anche dalle carte È quella di aver avuto Sempre troppo consenso E di non essere stati Simpatici A qualche dirigente Che poi non era certo Tra quelli trattati peggio Io devo andare In conclusione Le voglio solo chiedere Questa cosa Lei si è definito Un comunista senza casa Soprattutto guardando Alle prossime europee Però lei è anche Una persona Schietta Che quando amministrava Ha sempre detto Prima gli augubini Lei ha questa impostazione È un'affermazione Che oggi Ha un po' di affinità Per esempio Con i sovranisti Che dicono prima Gli italiani Ci trova Dei collegamenti Si sente un po' Sovranista augubino No, si pensa Di farmi un torto Con questa domanda Assolutamente no Non faccio domande Nel senso Che se mi dice Che cosa penso Di Salvini Penso negativo Se mi dice Difendere La propria realtà Che sia nazionale Che sia regionale Che sia eugubina Io la difendo Cioè in primo luogo Rivendico di essere Un sovranista Sì Di essere un eugubino Che pensa Alla sua città Che ci sono tante cose Delle quali parlare Ma penso Abbiamo saltato Il tempo non c'è È tiranno E lei lo sa Più e meglio di me Penso alla cultura Penso che forse Anche per esempio Sui ceri Dovremmo tornare A parlare un po' Per capire meglio Che qualcosa Che è degli augubini Deve essere degli augubini Punto Non di protagonisti Di vario genere Ma anche Del fatto Che Si vota insieme Alle europee Ci saranno effetti Trascinamenti Certo Io non posso portare Il mio leader nazionale Non ce l'ho A darmi una spinta Però penso Che ci siano Molti augubini Che lo faranno E anzi Colgo l'occasione Per ricordare Tra un attimo Credo che lei Chiuderà Per dire Ai nostri concittadini Che si vota Il sindaco Di Gubbio Il sindaco Di Gubbio E il sindaco Va scelto Tra coloro Che Gubbio La conoscono La amano Hanno dimostrato E possono Essere all'altezza Con le caratteristiche Che dicevamo all'inizio E ricordo anche Che alle elezioni comunali Si può disgiungere il voto Si può votare Un candidato Di una lista Perché amico Perché parente Perché non puoi Non dargli il voto Per tante ragioni Ma per il voto a sindaco Scegli Chi ti dà più garanzie Anche Per quell'identità Di Eugubinità Che purtroppo Si è un po' perso La città è diventata Un po' più omertosa Forse grazie anche Ai fatti Che lei Poc'anzi ha richiamato Bene Io avrei da farle Non sa che meno Quante domande ancora E me ne ha alcune Anche solleticate Ma il tempo è davvero tiranno Se un giorno Ritornerà in Parlamento Tolga la par condicio Così ci fa un favore A tutti quanti Grazie ovviamente Per essere stato con noi Grazie a voi Per averci seguito Perché l'Inc torna Anche la prossima Settimana Ovviamente ancora Dibatti O ancora Altri candidati Sindaco Sono davvero Tanti Quelli che stanno Crescendo Anche in queste ore Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti